Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sempre io Fabrizio Ferri su WKT Fitness TV Workout Fitness TV. Oggi parliamo di come saltare la corda. L'altro giorno ero a lezione con una mia allieva che provava a fare qualche salto in più ma si bloccava sempre su 10-15, questo per conto suo. Io le ho chiesto di mostrarmi come stava effettuando questi salti della corda e praticamente ho riscontrato alcuni errori che sono molto comuni. In questo video ti mostrerò come correggere questi errori comuni e come migliorare nel saltare la corda. Iniziamo subito col tutorial. Intanto ti mostro 4 modi per saltare la corda, ovvero il piedi pari, il più comune in assoluto ovviamente, in slow motion così capisci bene come gestire l'altezza, il piede alternato, quindi prima uno poi l'altro o addirittura il doppio su uno o il doppio sull'altro, questo poi diventerà un automatismo che si andrà a creare col tempo, con l'esperienza e con la pratica per quello che riguarda appunto questo tipo di esercizio. Poi il corsa calciata, quindi talloni che vanno verso il sedere, quindi alziamo bene questa gamba sfruttando appunto la spinta del tallone verso il ginocchio, tutto lavoro di polpaccio ovviamente perché la corda si salta con i polpacci e non solo poi lo vedremo, e poi il ginocchia alte, quindi come se fosse una corsa sul posto sempre alternato, però ginocchia alte, quindi massima concentrazione ed iniziamo. Postura, prima di iniziare a saltare le spalle devono essere basse, non ti incassare, molti fanno questo errore, la corda non gira, non prende forza, quindi spalle basse numero uno. Poi altro errore ho le braccia larghe, le braccia larghe ci impediscono un salto equilibrato, quindi stringiamo bene i gomiti, gomiti rasenti al corpo. Iniziamo a saltare la corda e facciamo attenzione al polso, i polsi devono essere mobili, devono ruotare perché altrimenti si va a girare la corda soltanto con il collo, la postura è scorretta, quindi attenzione ai polsi. Una volta impostato il corpo iniziamo con il salto a piedi pari molto semplice, esattamente sfruttando bene le spalle basse, girando bene i polsi e saltando in maniera adeguata. I salti sono piccolissimi perché la corda è sottile e non serve spaccarsi le gambe per superarla. Andiamo a vedere adesso come gestire un altro tipo di salto, io mi diverto molto con la corda, quindi come vedi faccio vedere diverse varianti. Andiamo a vedere, proprio perché la corda è un gioco, quello che sarà il nostro step successivo, ovvero imparare a saltare la corda in maniera incrociata. Io adoro questo tipo di tecnica, è veramente divertente, molto stimolante per il cervello, ha solo un difetto, molto spesso ci becchiamo delle belle frustate per imparare, ma quello fa parte appunto del gioco. Terminiamo il tutorial proprio con questo salto classico pulito, la testa può anche guardare in basso se vogliamo stare attenti ai piedi, ma di sicuro dobbiamo stare attenti ai gommiti, a non alzare troppo le braccia, altrimenti la corda non passerà mai sotto le gambe. E per quanto noi possiamo farne due o tre di salti, perché saltiamo di più, questo è un errore tecnico veramente devastante per la nostra esecuzione. Ti è tutto chiaro? No, perché questo tutorial è fatto esclusivamente per te, che non sei magari pratico della corda, o che comunque ti stai approcciando e vuoi iniziare adesso ad imparare questa, possiamo definire, disciplina. Quindi se hai dubbi scrivilo anche nei commenti e iscriviti a WKT Fitness TV alzando il pollicione se il video ti è piaciuto. Ci vediamo al prossimo tutorial con Fabrizio Ferri sul tuo canale del fitness.